nascondo la mano non avete visto nulla non sto esultando ho ancora il fiatone non sto esultando c'è il ritorno non è successo nulla non ascoltiamo trevisani che gufa tutta la partita che dice possiamo beccarci mila napoli rischio finale italiana no c'è il ritorno signori c'è il ritorno io oggi ho detto però avevo quelle vibes avevo quelle vibrazioni quelle cosette dentro che ti senti ma sai le coppe ma inzaghi nelle coppe e quelle robe che ti frullano nel cervello io esattamente quello io avevo esattamente quello oggi 2 a 0 risultato ottimo potevamo anche fare il 3 e stavo e bestemmiavo come non so cosa se prendevamo gol all'ultimo secondo ma bestemmiavo ma così tanto bestemmiavo ma così tanto vi giuro vi potevamo anche se vinceva allora se prendevamo gol all'ultimo era 2 a 1 però veramente venivo qua e facevo un video sfogo perché non era possibile buttare via un'azione del genere da un possibile contropiede a quasi fargli fare il 2 a 1 loro il ritorno sarà difficile perché comunque abbiamo visto come giocano abbiamo visto come giocano parliamoci chiaro siamo due gol di vantaggio era meglio se ne facevamo anche il terzo però però sì però bene 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 basta bene basta primo tempo ho visto un po' la squadra un po' così pochino così non so non mi erano dispiaciuti ma proprio sterili in attacco Dzeko ho detto non era una partita da Dzeko questa infatti entrato Lukaku è svoltata secondo te invece siamo entrati bene 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 bastoni crossa meglio di tutti i nostri esterni messi assieme e ci hanno fatto due cross così uno per barella il gol dell'1 a 0 e uno per Dumfries che anche lui anche lì grande occasione che poteva essere il 2 a 0 il 3 a 0 lì non mi ricordo fatto sta che potevamo fare almeno tre gol e Dumfries allora primo tempo mi ha fatto bestemmiare il secondo tempo come col porto non si sa cosa gli succede a lui nel secondo tempo di champions ha iniziato ha saltato un uomo lì anche incredibile Dumfries è la prima volta che salta l'uomo quest'anno forse anche negli ultimi due anni è passato ha messo in mezzo per Gosens che poi vabbè è scivolato poi si è guadagnato rigore grazie Joe Mario anche al ritorno magari e mi pare che nel primo tempo invece ecco si no forse nel primo tempo si aveva salvato anche un gol devo dire era andato malissimo il primo tempo però dai devo dire che è arrivato alla sufficienza piena Dumfries nel secondo Marella Mkhitaryan e Brozovic monumentali Acerbi bastoni e Darmian monumentali Onana bravissimo all'ultimo bravissimo e Lautaro non mi è piaciuto non mi è piaciuto Dzeko ancora meno e niente poi devo dire che i cambi sono stati assolutamente bene sono buoni mi è piaciuto l'Inzaghi Correa per quanto faccia schifo c'è da dire che comunque ogni tanto muove bene il pallone c'è da dirlo bisogna essere sinceri oggi mi è piaciuto come tratto Lukaku mi è piaciuto come tratto e ragazzi testa ritorno io non sto non sono ancora non so ancora cosa vuol dire semifinale non voglio neanche sapere cosa vuol dire ora c'è il ritorno il ritorno testa testa